incominciano le rivalità per questo ottavo di finale che vede sfidanti scelsi contro Tana De Lupi e che vinca il migliore botta secca non ce n'è per nessuno non ci sarà nessun ritorno che vinca il migliore e ci sarà un calcio di rigore a sorpresa assegnato dall'arbitro per Tana De Lupi vedremo se andrà a segno parte dal dischetto tiro sotto la traversa c'è subito l'1 a 0 in 7 fischio dell'arbitro parte sul pallone traversa clamorosissima rischia 2 a 0 Tana De Lupi buono lo scarico sulla destra ancora una finta rientrare ma interisce tutto e riparte veloce ancora scarico buono il destro sotto la traversa c'è il 2 a 0 per Tana De Lupi incredibile in 7 clamoroso c'è il simbambola non riesce ad reagire ancora per questo momento ma vediamo adesso che gestisce bene palla cerca in qualche modo di trovare barchi che Tana De Lupi non concede adesso vediamo uno sbocco sulla sinistra la finta attenzione la parata va in calcio d'angolo secondo per Tana De Lupi rimessa lunga anticipa bene il Chelsea e poi ripartire al centro buono scarico sulla testa prova un appoggio buono stop la finta espostissima del portiere che salva i suoi favorisce ma il Chelsea è bravo riparte veloce buona la finta sinistro chirurgico questa volta l'imbucata è precisa e di mezzo allo svantaggio 2 a 1 2 a 1 Tana De Lupi parte dal proprio portiere Tana De Lupi ancora ennesimo lascio lungo ma c'è il fischio del primo tempo primo tempo che si conclude con Chelsea 1 Tana De Lupi 2 vedremo cosa saprà regalarci il secondo tempo nonostante l'espulsione clamorosa per il Chelsea e il pareggiamento dei punti e cominciano le sfide e aprono i giochi 2 a 1 Tana De Lupi 7 contro 7 questa volta vedremo chi la spunterà chi passerà al turno successivo vediamo cosa succede adesso questo momento possesso palla Chelsea tema raso terra ma l'uomo ha piazzato bene sul fano in fischio aspetta me parte veloce adesso 3 contro 3 sinistro chirurgico chiude forse qua i conti 3 a 1 Tana De Lupi che gol li ha anticipato bene ancora lo scambio a liberare il centrocampista come gioca questo Tana De Lupi ed è 4 a 1 che chiude sicuramente la sfida qui che gol ragazzi bellissimo un inserimento buono lo scambio bello tutto adesso palla buona la finta lo scarico si salva Tana De Lupi ancora che riparte buono prova il pallonetto 5 a 1 non c'è più storia per il Chelsea in possesso palla adesso Tana De Lupi dopo il 5 a 1 che sicuramente ha chiuso i giochi qua attenzione la blocca addirittura buona la parata cacio d'angolo adesso che può sfruttare il Chelsea buona la finta al sinistro la parata 5 a 2 può guadagnare tempo buona la finta il lancio è preciso sulla sinistra pallonetto sotto c'è il gol 6 a 2 chiude qui i giochi Tana De Lupi la perata l'anno il il